Indice come mantenere la tonicità del proprio seno Andiamo a vedere una serie di abitudini che si dovrebbero evitare al fine di ottenere ciò La perdita di tonicità del seno è un problema incontrato da molte donne Spesso ci si chiede quali sono le cause di tale risultato e la risposta è più semplice di ciò che si crede Possiamo infatti riscontrare tali motivi in alcune cattive abitudini che vanno evitate Il seno è una parte del corpo fondamentale per una donna, in quanto è simbolo di bellezza e sensualità Che sia prosperoso o meno, se viene valorizzato nel modo giusto costituisce un punto di forza non da poco del corpo femminile Uno degli obiettivi che accomuna le donne è quello di avere un seno tonico, ma non tutte riescono a raggiungere questo scopo C'è chi non è mai riuscita ad avere un seno tonico, oppure chi lo aveva in passato, mentre ora non lo è più Questa problematica avviene soprattutto tra le donne adulte, poiché la causa principale delle perdita di tonicità è l'avanzare dell'età Con il tempo, infatti, il seno inizia a diventare sempre più decadente Le altre cause di questo fenomeno si trovano in abitudini ben precise che alcune donne sono solite avere Potrebbe interessarti anche, se noti che il tuo seno sta perdendo tonicità Tutto ciò che ti resta da fare è evitare alcune abitudini quotidiane In questo modo il problema si ridurrà in poco tempo Vediamo adesso cosa fare, uno stile di vita sedentario non aiuta certamente a mantenere un seno tonico Di conseguenza quando si ha un po' di tempo libero è consigliato fare una passeggiata o qualche esercizio A tal proposito ci si può rivolgere anche ad un personal trainer che conoscono determinati esercizi proprio per tonificare il seno Il seno può anche essere condizionato dal reggiseno che si indossa Spesso infatti durante la scelta di quest'ultimo non si fa molta attenzione alle taglie Ciò è sbagliatissimo perché il reggiseno non deve essere né troppo stretto né troppo largo Bensì adagiarsi perfettamente sul proprio corpo Il fumo è uno dei principali nemici della propria pelle Se si fuma molto quest'ultima perde elasticità Dunque il seno delle donne che hanno il vizio del fumo tendono ad avere il seno non solo meno tonico, ma anche più lugoso Prendere o perdere peso in modo rapido non rappresenta un beneficio per il seno In particolare se si dimagrisce il seno perderà molto tessuto Per questo motivo è meglio non seguire che ti portano a perdere peso in poco tempo Meglio un regime alimentare bilanciato che migliora il tuo corpo poco a poco Se ci si espone al sole senza mettere la protezione solare la pelle ne pagherà le conseguenze Tra questi c'è anche la perdita di tonicità del seno I raggi solare, proprio come il fumo, favoriscono la nascita di rughe sulla pelle Quindi si invecchia prima del tempo Con ciò non vuol dire che l'esposizione al sole è vietata Ma la protezione solare è essenziale ed inoltre è una buona idea evitare le ore in cui fa più caldo Grazie a tutti Grazie a tutti